Ciao a tutti, bentornati in Nord Affari. Nell'attesa di potervi fare di nuovo qualche video dalla sede e non a casa, affronto ancora un paio di argomenti. Abbiamo parlato già del discorso normativo e dei blocchi dei diesel e che la sfera di cristallo non ce l'abbiamo noi e non c'era nessun altro. È evidente come dicevamo che l'elettrico sarà il futuro sull'automotive o almeno è quello che al momento sembra, poi magari uscirà una tecnologia completamente nuova. La tecnologia che esiste oggi su Ducato, ibrido o elettrico che sia, è soltanto embrionale, non è in vendita, ma è quello che stanno già mettendo nero su bianco sulla stampa oggi e che da qua a 5 anni potrà essere sul mercato questo Ducato elettrico che però ha un'autonomia a vuoto di circa 150 km, il che significa che per un utilizzo al di fuori del corriere che fa le consegne in centro Milano non è assolutamente adatto al nostro scopo. Uno, perché il camper ha necessità di autonomie superiori viaggiando per la maggior parte del tempo fuori dal centro urbano. Due, il problema è il peso delle batterie che lascia poco spazio di carico per quanto riguarda l'allestimento. Il costo, perché si parla di qualcosa di tipo il doppio del frugonato diesel di oggi. E quindi la domanda è, ma se io comprassi un van diesel oggi e tra dieci anni il diesel non potesse più circolare e il mio camper non valesse più niente, che faccio? Allora, due considerazioni. Primo, secondo me ci vorranno molto più di dieci anni prima che il furgone e comunque l'autocarro elettrico soppianti il diesel, perché comunque anche se tra dieci anni la tecnologia probabilmente ci sarà, sarà in ogni caso più costosa avrà meno autonomia del diesel e quindi se sull'automotive, sulle autovetture, l'elettrico secondo me è molto probabile che abbia una grossa fetta di mercato in futuro. Su questo settore qua assolutamente no, però fate una valutazione completamente diversa. Pensate a acquistare un veicolo oggi, un qualunque veicolo oggi, devo sostituire l'auto. La sostituisco con un'auto che pago 45 mila euro e che indipendentemente da cosa ne sarà del carburante gasolio, da qua dieci anni, ovvero il gasolio tornerà in auge, sarà benzina, sarà elettrico, qualunque auto compri oggi, anche elettrica, da 40-45 mila euro il costo di un furgonato, da qua dieci anni, se non cambia il mondo rispetto a quello che è stato dagli ultimi dieci anni ad oggi, va comunque zero il mio usato o poco sopra. Un'auto da 40-45 mila euro dopo dieci anni sostanzialmente vale zero. Acquisto un van diesel. Nella migliore delle ipotesi le cose continueranno come oggi, perché tenete presente che negli ultimi dieci anni, mediamente, di media, il listino furgonato, POS per fare un esempio concreto, è aumentato di 750 euro all'anno, il che porta sempre il prezzo del nuovo più in alto e il prezzo dell'usato se lo porta dietro. Quindi, nelle migliori delle ipotesi, dopo un mezzo da 45 mila van, dopo tra dieci anni, varrà 30 mila sul mercato. Nella peggiore delle ipotesi, perché stamperanno i camper con la stampante 3D e andranno ad aria fritta? Nella peggiore dell'ipotesi, il vostro usato varrà zero, esattamente come varrebbe zero la vostra auto. Però avete comunque un biglietto della lotteria che se le cose continuano come sono andate fino ad ora, la vostra svalutazione in dieci anni sarà ridicola col van. Nella peggiore dell'ipotesi, sarebbe la stessa che avreste avuto su un'auto di pari valore. Quindi, comunque, il rapporto rischio-rendimento è sempre comunque a favore del van. Discosso filosofico, comunque, spero di avervi dato un punto di vista nuovo. Ciao e alla prossima!